Francesco, stai attento, ok? Attento a cosa? Non lo so, al fatto di vivere così in mezzo alla campagna. Io sono la persona più vicina, comunque sono dietro alla collina. Non sto scherzando. Dove c'ho andato? Eccolo Ciao 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 Tranquillo Hai oggi non mi aspettavo di vederti Perché? Ma Mi aspettavo un ragazzo Un biondo Mi ha sorpreso Facciamo un brindisi A questa serata? A questa serata No, non lo sa Lo sto dicendo a te Poi arriva la cameriera E tira fuori la carta Sono la più fica qui dentro Io la fulmino con lo sguardo E per depistarla le chiedo E puoi portarci il menù? Certo Se ne va Con la cameriera? Lei ha detto che è libera per il cinema Guardo l'anguido Carta sono disponibile E soprattutto mentre ero in bagno la carta Sono libera per il cinema Stronza maledetta Mi aveva appena rubato l'uomo Empty As the hallway Long after midnight I am walking Alla prossima And a prossima As the hallway Iscriviti al canale As the hallway Iscriviti al canale